Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma si segnalano 8 km di coda per il ripristino di un incidente tra Valdarno e Monte San Savino. Sempre in direzione Roma, code per il traffico intenso tra Firenze Sud e Valdarno. In A11 si segnala la chiusura per lavori del tratto tra Alto Pascio e Chesino Zanese in direzione Firenze fino alle 7 del 21 dicembre. Sulla statale Trevis di Verina fino al 22 dicembre scambio di carreggiata tra i km 149, 550 e 144, 700 con chiusura dello svincolo di Pieve Santo Stefano Sud in entrata e uscita in direzione Orte. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!